Venerdì pomeriggio a Cosenza un incendio ha interessato una palazzina a Corso Telesio di fianco al più conosciuto palazzo Compagna nella parte storica della città. Le fiamme hanno invaso un appartamento all'interno del quale viveva una famiglia di tre persone. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco insieme ai medici del 118. I pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di domare le fiamme, mentre il personale medico con non poche difficoltà ha cercato di entrare nell'appartamento nel tentativo di trarre in salvo le persone che lo occupavano. Senza però riuscirvi, perché purtroppo sono stati rinvenuti ormai cadaveri i due fratelli e la madre per l'appunto, i quali occupavano abusivamente l'immobile. Una famiglia sfortunata da tutti i punti di vista, anche perché più volte madre e figli erano stati sottoposti a trattamento TSO. Subito dopo l'intera area dalle forze dell'ordine è stata interdetta al pubblico perché il palazzo potrebbe essere a rischio Cronno.